Date un'occhiata a questa stupenda proprietà da Berry Plant Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile Comprende Cucina ben arredata Che vanta elettrodomestici di prima qualità Ampie camere da letto Che vi farà sentire comodi e rilassati Una casa in attesa del vostro tocco familiare Non perdete l'opportunità per vedere questa casa oggi Contattate l'agente